Dal Vangelo secondo Marco Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Olivi, Gesù mandò due dei Suoi discepoli e disse loro Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro slegato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro Perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono a fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece su delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Domenica 28 marzo, la Domenica delle Palme. Passione, la passione secondo Marco, i capitoli 14-15. In questa Domenica delle Palme, noi leggiamo due Vangeli. Uno all'inizio, di solito, no? Della Messa, quando si benedicono i rami d'ulivo, e che ci racconta di questo ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Anche Marco sottolinea tutta questa gioiosità. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Era il regno messianico, ma inteso non solo come qualcosa di futuro, ma come un regno ben presente sulla terra. Gli ebrei non ne potevano più dei romani. Aspettavano ansiosamente il re messia, liberatore di questo dominio, per instaurare sulla terra il regno di Dio. Ecco, e allora Gesù diventa un po' così, questa presenza da cui ci si attende liberazione, ma non è la liberazione che intende Gesù, non è una liberazione politica, non è un potere mondano. Ecco allora il grande racconto della Passione, che leggiamo appunto in questa Messa, il Passio, no? Come si dice, dove Marco, in particolare, mostrerà tutta la crudezza, diciamo così, di questa rivelazione, che non è assolutamente una presa di possesso, una presa di potere terreno, ma è invece un altro tipo di liberazione. Ecco, e allora naturalmente non si può commentare tutto il racconto della Passione, ma magari sottolineare alcuni, tra i tanti, particolari che sono solo di Marco. Per esempio, quando nell'ultima cena Marco racconta l'istituzione dell'Eucaristia, dove la pone, la pone in mezzo, proprio tra due tradimenti, quindi l'annuncio prima, subito prima del tradimento di Giuda e subito dopo l'annuncio del rinnegamento di Pietro. In mezzo il racconto, mentre mangiamo quello che diciamo in tutte le messe, prese il pane, lo spezzoprendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dell'alleanza che è versato per molti. Quindi questa collocazione non è casuale, cioè si racconta l'istituzione, quella che noi chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia, cioè il dono di Cristo rituale, che poi sarà fisico il giorno dopo, ma senza l'Eucaristia, senza quell'Eucaristia, Gesù sarebbe uno dei tanti migliaia e migliaia di crocifissi dell'impero romano. È proprio l'Eucaristia che ci dà il senso di quella morte, di come l'ha vissuta Gesù e di come Dio vuole che sia intesa quella morte, quindi come un dono totale di sé, un'autoespropriazione di sé, a chi non ha gente brava, che se la meritava, che gli voleva anche bene magari, ma erano tutte persone che lo stanno tradendo, lo stanno abbandonando, professano un amore per lui come fa Pietro, ma attenzione che il Vangelo di Marco sottolinea quando Pietro dice anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò, Marco dice lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Non è che l'ha detto solo Pietro, erano tutti lì che dicevano Signore daremo la vita per te. E quando poco dopo, qualche ora dopo, nell'olto degli ulivi, Gesù viene arrestato, Marco commenta tutti abbandonatolo, fuggirono. Ecco, non è solo Pietro, tutti abbandonatolo, perché nell'Evangelio di Marco Gesù muore completamente solo, non c'è nessuno sotto la croce di Gesù in Marco, le donne guardano da lontano, solo le donne guardano da lontano. C'è anche un altro particolare che tutti gli esegeti rilevano, c'è quel ragazzino che nell'orto degli ulivi è rivestito solo di un lenzuolo, è lì in mezzo che guarda e si dice, forse è lo stesso evangelista, solo lui ci racconta questo particolare, un soldato lo prende per il lenzuolo, ma lui se lo toglie e fugge via nudo. Qualcuno dice, è il simbolo di Gesù che si spoglia di sé, che entra nudo nella sua passione, è bello pensare che potrebbe essere lo stesso evangelista Marco che così fa un piccolo cammeo, diciamo, dentro il racconto dicendo c'ero anch'io quella sera, ho preso una gran paura perché mi hanno anche preso per i vestiti, ma io sono fuggito. C'era anche lui probabilmente a vedere questa scena. E alla fine, quando ci racconta la morte di Gesù, ecco, sentiamo proprio lo stridente contrasto dei passanti che lo insultano. Ehi tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni. Ecco, quello che noi abbiamo letto qualche domenica fa, salva te stesso scendendo dalla croce, così i capi dei sacerdoti, così gli scrivi, non solo i passanti, i capi del popolo e così anche i crocifissi con lui. Non c'è nessuno dalla parte di Gesù per il Vangelo di Marco e alla fine Gesù muore gridando a Dio, è vero che è un salmo, ma è una domanda, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? è vero che è il salmo 22 che poi finisce anche bene questo salmo, però in quel momento ecco, grida tutta la domanda che dal cuore dell'uomo, di ogni uomo, sorge davanti al dolore innocente, davanti alle tragedie della vita e della storia, davanti al silenzio di Dio, davanti a queste tragedie. Ecco, Gesù muore così in piena solidarietà, condividendo davvero anche il buio del cuore dell'uomo che si trova ad attraversare queste vicende, Gesù è entrato dentro questa tenebra e Marco lo sottolinea, lo sottolinea perché? Perché facendosi proprio così solidale con l'ultimo dei disperati della terra, potremmo dire, Gesù apre e invece ha una speranza nuova. Infatti Marco dirà il centurione che si trovava davanti a lui, avendolo visto, spirare in quel modo, in quale modo? In questo modo, in questa piena solidarietà con tutti gli uomini più abbandonati, più, come dire, caduti nel gorgo della morte, del buio, avendolo visto spirare in quel modo, il centurione pagano finalmente risponde in maniera vera a quella domanda che percorre tutto il Vangelo di Marco e cioè chi è Gesù? Veramente quest'uomo era il figlio di Dio che anche noi in questi giorni santissimi della settimana santa possiamo rispondere di nuovo nel nostro cuore Gesù se tu sei davvero il figlio di Dio. Acuna di Dio Sì, la pena di Dio l'anima quella di Dio che ha